Siamo arrivati alla 11.11 Nerf ha un oggetto da tank principale che è la Brumble Vest Buff dalla Warden's Mail agli oggetti della Warden's Mail Nerf ha una Lail of Blades e i biscotti, quindi dici, dai, cavolo questo è il momento, adesso vedremo un gioco un po' diverso, vedremo delle modifiche avere un impatto vero e pro solo sulla Top Play La Top Play è l'unico ruolo che continua a evolversi in questa season, e che mi rende molto contento, perché come Top Planer io sono tipo, ma questa season è fantastica per me e ogni volta ho qualcosa di diverso a giocare ci sono sempre match-up nuovi e qualcosa ogni volta di intrigante poi guarda il resto della mappa e penso raga sta prendendo tutto fuoco tutto, cioè, ma non dico tutto tutto, tutto uno guarda, qua i tier ormai mi fa ridere vedere Darius che ancora viene considerato 50% e comincio veramente a screditare U.gg, perché vedere Darius con 50% di Wii Raid Scarno, proprio a pelo arriva al 50% che me lo definisci S più su danno perché viene giocato e bannato perché danno un sacco di valore al bar rate perché un campione sia frustrante dicono, eh, se un campione è frustrante deve essere forte a prescindere a Wii Raid no, Darius è frustrante quello è sempre stato così ma, dico, Wukong è un bellissimo divento Top Play dici, ok, buono qualcosa di diverso grazie al Divine Sander la Black Cleaver risulta molto d'impatto finalmente la gente capisce che Gwen è forte comincia a buildare Rabadon come terzo oggetto anche se ha un sacco di counter un sacco di modi per poter batte per poter essere battuto questo campione quindi neanche dici è così overwhelmingly OP Fiora che si inserisce ora che la Brumble Vest finalmente è assolutamente spazzatura la Brumble Vest è veramente spazzatura ok, non è male comunque contro campioni che si basano tanto sugli autoattacchi e sul sustain rimane molto peggio di prima non riflettere alcun danno oltre a quei tre danni flat è bruttissimo è proprio brutto e di conseguenza tutti i top laner sono felici tranne quelli che si basavano su quell'oggetto per esistere poi infatti comincia a vedere altri campioni uscire fuori come Seth che già era messo bene Riven ormai è scalata nell'inverno simile grazie al buff alla Black Cleaver Shane è l'unico che rimane neutro e dice vabbè io posso combattere a prescindere da quella che è la Brumble Vest o comunque i miei danni quindi grazie, arrivederci ci rivediamo fra un po' quando dovrete farmi per forza di cose e poi non dite che non ve l'avevo detto Camille Camille che comincia di nuovo a risalire perché senza la Brumble Vest uno degli oggetti principali per gestirla adesso non dico sia easy per lei ma è molto più tranquilla capite che quando Nasus quando Nasus è in grado di avere un Weer Raid positivo sopra il Platino c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che chiaramente non va e è stato tutto bilanciato attorno proprio alla Brumble Vest la top lane e ora infatti vedete così persino Urgot è risalito non è messo bene come in passato ovviamente perché comunque ha subito un nerf diretto ma persino Urgot si è messo bene poi uno può andare a guardare i Weer Raid e vede comunque dei campioni che sono veramente fantastici che sono comunque di tier alto non tutti perché ovviamente Warwick diceva che non è il campione più giocato del gioco lo stesso per dire per Queen e Nocturne ma poi vedi S comincia a vedere S comincia a vedere Singed di nuovo finalmente per fortuna è bastato forse quel buff della Yard renderlo un minimo più interessante più valido non che non fosse mai in cima di Stay Weer Raid ma almeno una manina l'ha ricevuta Kled che adesso almeno ha smesso di buildare Tank tende principalmente ad andare oh no wow è tornato wow i primi giorni aveva cosa aveva più Gore Drinker adesso invece dei primi giorni Apache invece adesso è proprio tornato proprio di violenza sul Sunfire sarebbe anche da controllare magari no no anche adeli più alti non è neanche cambiato molto ok forse adeli molto più alti vanno di Grasp dal Diamond 2 in su perché sfruttano meglio con l'idra titanica ok comprensibile però diciamo che per la maggior parte di noi che non gioca perfettamente forse il Sunfire rimane più valido mettiamola molto semplicemente così continuando a scendere povero Horn è sceso dal suo S-tier perché perché non ha più la Bramble Vest sulla quale appoggiarsi per poter superare la fase di early game e infatti vedi campioni come Fiora come Camille come Mordecaiser che prima Horn li gestiva senza problemi perché dice Bramble Vest grazie di vederci tutti quanti li poteva gestire adesso invece non ci riesce più come giusto che sia perché rende i duellanti o comunque i bruiser top lane più aggressivi in grado di combattere e sopravvivere allo stesso tempo è tipo ah wow questa deve essere la patch che permetteva ai tank di esistere competitivo vuol dire che non ci sarà neanche un tank se siamo messi così male li vedremo soltanto in matchup in cui sanno che non avranno troppi problemi però gli hanno proprio il massimo allora allora io dico io dico questo escludendo qualche campione che è stato nerfato o modificato apposta nell'ultimo mese e mezzo io finisco sempre per Morgana almeno è scesa almeno quello ma Fiddlesticks è un sempre verde Xin Zhao da quando ha ricevuto il suo mini rework è un sempre verde Kha'Zix sul discorso di assassini in giungla vedi Kha'Zix vedi Shako almeno Talia e Rexy sono qualcosa di diverso ma a questo si parla di win rate cioè quando andiamo a vedere quanto un campione venga selezionato Shako ha un bar rate altissimo ed è per questo che si trova qua in cima lo stesso per le Xin ma non perché è in giungla ma perché è in Topling che viene solitamente selezionato quando vedi che ci sono ancora sempre gli stessi e non dici neanche è troppo tormentato magari dai bann o cose del genere tipo vedi Fiddlesticks ma magari il dubbietto che forse qualcosina vada cambiato non viene non viene proprio Fiddlesticks e Xin Zhao sono veramente forti quindi se volete giocare qualcosa per vincere Fiddlesticks è letteralmente da inizio dell'anno che dico giocate Fiddlesticks e letteralmente non dico avete un free game ma banni Xin Zhao e statisticamente vinci più del 50% delle partite non voglio essere stronzo ma cioè sono letteralmente dati di fronte ai nostri occhi questo è assurdo Fiddlesticks è lì tranquillo sobrio che non lo giocano in tantissimi e quindi dicono ok è ok non sta dal 52,5% di win rate e non ha un non ha un vero e proprio match up in cui perde malamente tranne Xin Zhao perché è veramente forte per il resto poi sono campioni che lentamente stanno riprendendo un minimo piede come tali Erexai perché la gente si accorta che Erexai è tanto forte a livello di trade diretto Shako ha ancora la sua fanbase matta e scatenata io guardo la giungla e penso hmm not bad non è cambiato nulla almeno un minimo con l'inserimento di Zack e Nunu che come front line sono un minimo più intriganti perché vedi un Nunu che comincia a essere un pochino più presente visto che le alternative sono state nerfate Zack che la gente gli sta cominciando a dare un po' più fiducia soprattutto grazie anche ai buff della Wormog non è uno di quei non è una di quelle situazioni in cui non è cambiato niente è un'unica situazione in cui dici ci sono i soliti soltanto riposizionati un minimo però ovviamente quando si parla di ruoli che non cambiano tanto l'unico inserimento diverso dall'inizio dell'anno è Yasuo perché l'hanno buffato più volte per il resto e sempre si può dire è il ban rate che conta tanto certo fantastico se un campione è così frustrante da trovarsi 40% delle volte bannato due domande me le farei Riot ok certi campioni sono effettivamente tanto giocati e tanto bannati quindi dici è normale che sia così valido non è sbroccato Zed è solo che per molti giocatori è tanto frustrante che gli dicono sai cosa fotti ti lo banno direttamente non ho intenzione di perderci tempo contro lo stesso per Katarina Katarina non è che sia sbroccata è che in laning phase hai anche le tue difficoltà ma basta che gli avversari commettano un errore è quello il punto cioè gli avversari basta che commettano un errore e Katarina comincia a prendere il controllo del match cioè non può esserci un punto di spike singolo in cui cioè mi spiego meglio è un contesto che voglio dare su più campioni ci sono certi campioni che con un singolo oggetto hanno uno spike pazzesco ci sono certi campioni che non con un singolo oggetto fanno ancora schifo Katarina è uno di quei campioni che una volta che ottiene uno spike principale ogni oggetto successivo diventa sempre più potente non si ferma più poi ci sono altri campioni invece che prendono il primo oggetto e sono ok prendono il secondo oggetto e sono eh prendono il terzo oggetto e diventano finalmente buoni è quello l'assurdo e non si parla di campioni dalle game scanning che dice vabbè alcuni campioni devono scale eccetera persino Vladimir percepisci subito il power spike dal primo oggetto lo stesso per Yasuo lo stesso per Talon lo stesso per Anivia è quella l'assurdità certi campioni sfruttano estremamente bene il sistema di nuovi oggetti estremamente bene ma loro e basta non è che dici vabbè ma gli altri non è che sono messi così male è che nel momento in cui tu vai a prendere uno spike un vantaggio con certi campioni che non sono messi male uno può guardare anche i peak rate e i win rate e quanto vengono giocate e quant'altro in proporzione anche all'elo il discorso è sempre lo stesso il modo in cui viene percepito dai giocatori lo spike a singolo oggetto non è uguale non è uguale se io prendo una kill su Cassadin io dico porca troia adesso vedi come comincio a tirare degli schiaffi fotonici se io prendo una kill su Leblanc penso ah ok arriverò un pochino più in fretta al mio spike che al terzo oggetto e quello è l'assurdo cioè Viego non ha neanche bisogno io dall'inizio dell'anno lo dico togliete il sustain in lane sui minion a Viego fine l'unica cosa che devi togliergli togligli quello e non è più un campione in mid lane per favore gentilmente grazie dicevamo quindi hai tutti i campioni che non sono messi male a livello di bilanciamento perché uno guarda e se ti si dice vabbè ma non sono messi così male ma è la soddisfazione dal trovare uno spike che non è equivalente ad altri campioni è quello che lascia un po' con l'amaro in bocca per questo vediamo sempre i stessi campioni qua sulla corsa centrale e sulla giungla perché alcuni sfruttano estremamente bene a prescindere dal loro stato di bilanciamento o quello degli oggetti attorno a loro il sistema attuale e si sapeva che questo poteva essere un rischio ma di conseguenza devi farti due domande e dire se abbiamo cambiato tutti gli oggetti e vediamo che alcuni campioni continuano ad essere selezionati a prescindere magari qualcosa dobbiamo cominciare a fare per ribilanciarli attorno a degli spike un pochino più sani botlane a me dispiace per la botlane perché gli adcarrie dicono eh ma gli adcarrie non possono fare nulla almeno adesso che non c'è kaizai in ST sono già più contento Ezra l'è anche tornato grazie al Divine Sunderer questo non è per niente cioè vedete quanti campioni adesso come adcarrie sono molto più affidabili mettiamola molto semplicemente così magari non con i raid stratosferici ma comunque molto di impatto molto pericolosi che vanno a richiamare molti pick e anche molti ban con Kogmo in primis con la sua fantastica build da tank in cui va Witsend Runan e poi il Randwin mi viene il voltastomaco soltanto a dirlo ad alta voce sta cosa e non è per niente male anzi è wow il punto è questo cioè torniamo sempre allo stesso discorso gli adcarrie non sono messi troppo male fanno i loro danni e alcuni dominano anche con il nerf dei low blades Tristana rimane in impatto Jinx e Samira sono contento i Jinx e Samira Jin, Kogmo Ash davvero sono veramente contento di vederli più di impatto Vayne continua cioè allora adcarrie da late game scaling Vayne che è S tier in solo queue dove c'è il gioco disorganizzato che uno può dire vabbè è proprio perché è disorganizzato che riesce a trovare il successo Vayne a una certa fatti due domande se non è più adcarrie da late game scaling però è un campione che domina early domina mid domina late c'è un problema non che la situazione sui supporti è per questo che io mi trovo proprio sterrefatto perché come Toplane io vedo una varietà gigantesca in Toplane e poi vedo questo poi vedo tutti gli altri ruoli e a me dispiace perché capisco poi la frustrazione di tutte le persone che dicono eh ma si vede sempre gli stessi campioni si vede sempre gli stessi campioni cioè io però posso anche provare a promuovere alternative di pick dicendo eh guarda la situazione è diversa adesso sì ci sono campioni in Chantel come Sona Gianna Lulu che stanno trovando molto successo con gli oggetti la gente non li gioca la gente non li vuole nemmeno provare non c'ha voglia nemmeno di provare di fare il tentativo perché si rendono tornando al discorso degli spike si rendono conto che nel momento in cui riesci a trovare uno spike molto più in fretta con certi campioni ti ritrovi a vedere quei campioni non di conni presenti ma dei sempreverde il punto rimarrà sempre lo stesso fino alla fine ragazzi è il momento di accettare il fatto che detta semplice semplice dobbiamo cambiare qualcosa io spero davvero che la 11.13 vada a cambiare un po' il bilanciamento del gioco perché sincero vedere 4 lane che sono congelate nel tempo escludendo qualche pick che magari viene nerfato veramente a morte un po' annoia un po' annoia